grande notizia ho fatto benzina da sola se siete di quelli o di quelle che voi bravissimi in macchina fate tutto eccetera eccetera smettete di ascoltare perché non è per voi questa puntata questa puntata è per le persone che come me e so che esistono hanno guidato per molto tempo in un paese straniero dove magari si guidava dalla parte opposta della strada e poi sono arrivati in italia e hanno ripreso in mano la macchina e non è così semplice come si pensi io fino a poco tempo fa ancora dovevo fare uno sforzo di concentrazione pazzesco quando arrivavo nelle rotonde perché se mi capitava di prendere una rotonda sovra pensiero mi buttavo dalla parte sbagliata della strada ma a parte questo che puoi imparare a guidare dalla parte giusta della strada è il minimo quello che veramente frega noi guidatori di altri posti è il modo in cui ad esempio si fa benzina io ricordo giovanissima ragazzina mi trovavo in germania in macchina e io da cretina ho fatto benzina e volevo spostarmi per liberare la pompa non sapendo che in germania invece si lascia lì la macchina si va dentro si paga e poi si prende la macchina quindi mi sono messi a rincorrermi come se volessi scappare senza pagare ecco qui in italia c'è questa cosa qua che tu metti la carta di credito e ti tolgono 100 euro dalla carta o comunque si prendono la possibilità di usare questi 100 credito io ho sempre terrore di fare la cosa sbagliata che non funziona che mi mangia la carta per cui finora e sono quasi sette anni che sono rientrata riuscivo sempre a farmi fare benzina da mio marito diciamo che in generale a me fare benzina non mi fa impazzire non è una cosa che mi piace tantissimo però ecco adesso ho preso il coraggio e ho fatto io benzina ripeto sono cose piccole minuzie ma io ero abituata andavo in australia facevo benzina spostavo la macchina portava lavare eccetera eccetera perché conoscevo il modo in cui funzionava il sistema e lì ad esempio in australia tu fai benzina poi paghi quello che hai consumato non è che paghi di più e non è che devi dare delle cauzioni che altrimenti scapi penso che sia una cosa molto italiana questa e a me le cose molto italiane mi mettono un po un po di ansia perché non so mai come funzionano beh se che magari sulla carta dovrebbero funzionare però c'è sempre qualcosina che magari poi non funziona ti trovi lì o mi trovo io lì da sola in mezzo a non so dove con la cartina in mano con la cartina infilata dentro magari non mi prende neanche il telefono ah non fatemi pensare all'isturio comunque ho fatto quasi il pieno e sono pronta ad andare persone come me in ascolto che hanno questo problema non vi sentite sole perché siamo in tanti anche se non lo ammettiamo grazie mille